Cari amici di Fanno TV, ben trovati. Un altro approfondimento in studio in cui si torna a parlare di politica. Elezioni 2024. Diamo il benvenuto al nostro ospite in rappresentanza della coalizione della centrodestra e a sostegno della candidatura a sindaco di Luca Serfilippi. Diamo il benvenuto ad Alessandro Brandoni, rappresentante della Lega Fanno. Buonasera. Buonasera Maria Elena. Allora, cominciamo da lei, dalla sua persona, dal suo percorso, dalla sua esperienza e dal motivo della sua scelta. Io ho scelto ovviamente di candidarmi e ho usato come slogan di questa mia campagna personale una frase di uno scrittore francese che tra l'altro non è propriamente un contemporaneo perché è venuto a mancare all'inizio del Novecento e quindi che ha detto una frase secondo me esemplificativa che anche oggi si potrebbe dire ha un suo valore, ovvero non mi occupo di politica è come dire non mi occupo della vita e questa è una frase che io sento mia perché comunque sia dai tempi della scuola dove sono stato per tanti anni rappresentante degli studenti sia dei tempi dove quando svolgevo l'attività di dipendente sono stato rappresentante sindacale e mi sono sempre anche indirettamente occupato di politica delle cose, di cercare di migliorare le cose. Da qualche anno ho scelto l'impegno politico in maniera diretta e dal 2022 sono segretario della Lega Fano e quindi mi sono ritrovato in prima linea in tante battaglie. Perché mi sono candidato? Qualcuno mi ha anche detto che nel senso il segretario del partito poteva essendo una specie di allenatore, io mi sento anche un po' allenatore di una grande squadra, poteva starsene in panchina e dirigere un po', coordinare quelli che erano i lavori, però sono una persona che è abituata a metterci la faccia per cui sento di portare avanti questo impegno e lo faccio con grande entusiasmo e con grande e con grande anche soddisfazione personale. C'è un tema che le sta particolarmente a cuore e che sicuramente sta a cuore a tutti i cittadini, è quello della sicurezza, non ultimi i fatti di cronaca, insomma accaduti proprio in questi giorni. Ecco, qual è il vostro piano a riguardo? Quello che è accaduto in questi giorni è solo l'ultimo di tanti episodi, è un episodio anche piuttosto grave, non tanto per le conseguenze che fortunatamente non sono state eccessive, ma sicuramente per la dinamica con cui si è sviluppato, perché parliamo chiaramente di una guerra tra bande che si fronteggiano nel centro storico di Fano ormai da tempo e questo è avvenuto alle tre del pomeriggio del sabato di Pasqua davanti tante persone. La nostra ricetta qual è? Innanzitutto da tempo sosteniamo che il nostro corpo di polizia locale vada occupato in maniera più proficua sia sul territorio sia per quello che riguarda l'arco di tempo in cui i turni di servizio sono attivi, perché ricordiamo che sostanzialmente durante, specialmente durante l'inverno, poco prima diciamo intorno alle 7 di sera i turni di polizia municipale finiscono. Quindi quello del rafforzamento, diciamo, dell'impegno della polizia locale è sicuramente un tema. Un'altra cosa che secondo noi può essere importante a livello soprattutto preventivo è quello della ricostituzione di quelli che erano un po' i comitati di quartiere, quelli che erano i consigli di quartiere, adesso non saranno proprio così, però avere un punto di ascolto in tutti i quartieri dove ci sono delle persone che vivono quella realtà, conoscono tutti, conoscono i movimenti, conoscono le cose, possono riferirle tempestivamente alle forze dell'ordine, può essere assolutamente un deterrente. Quindi questo può essere sicuramente anche un'altra cosa che riteniamo sia efficace. Un altro punto ancora potrebbe essere quello, anzi è, perché ricordiamo ce lo fanno, è la terza città delle Marche, 60.000 abitanti, ha un commissariato di polizia che ha un organico che non è sicuramente all'altezza della popolazione e questo deve essere un impegno che vogliamo portare avanti in maniera molto calzante nei confronti delle istituzioni nazionali per arrivare a avere quel rafforzamento dell'organico che è assolutamente indispensabile. Si parla di un affano più condivisa, quindi un affano fatta di scelte congiunte, un affano con una progettualità più forte, parliamone. Ma quello della condivisione è un tema che secondo noi è mancato molto in questi anni, ovvero si sono fatte delle scelte e queste scelte sono state portate ai cittadini, ai comitati, alle associazioni nel momento in cui i progetti erano diventati esecutivi, quindi andare a parlare con le persone quando ormai è realizzato tutto ha poco senso, quindi il coinvolgimento deve essere prima della realizzazione del progetto esecutivo, deve riguardare tutti quegli aspetti che le persone che vivono il quartiere, la via, conoscono molto meglio di chi probabilmente va a progettarli, perché poi è tardi. Vediamo adesso, porto come esempio, me ne sono occupato anche in passato, il discorso di Viale Dante Alighieri, dove abbiamo realizzato una ciclabile che non è una ciclabile, che non è sicura né per i piedoni né per i ciclisti, si è creato un problema per i residenti perché si ritrovano a non poter più parcheggiare, c'è un problema per anche i turisti che magari arrivano, vedono che ci sono questi posteggi, parcheggiano e prendono le multe, quindi si è creata una soluzione senza aver coinvolto prima tutte le parti in causa, alla fine non è contento nessuno perché non sono contenti i residenti, non sono contenti i commercianti, non sono contenti gli avventori della Sassonia, quindi ci vuole più condivisione per quello che riguarda tutti i progetti che si faranno. Un'altra parola chiave del programma è vivibilità, quindi ripensare agli spazi pubblici, alle infrastrutture e altra cosa che è proprio stata una sua idea per cui insomma si è battuto il restyling dello stadio. Sì Maria Elena, sicuramente mi sono battuto per il discorso dello stadio, da tifoso perché comunque in questi anni me ne sono sempre occupato, ma è oltre a quello che sicuramente è una priorità perché attualmente abbiamo ecco questo un caso diciamo di condivisione di intenti e di progetti che sono rimasti a metà, cioè non si può iniziare un progetto, fare delle cose a spot, mettere un pezzo alla volta senza averlo programmato e poi lasciare delle situazioni che sono inguardabili o ingestibili. Quindi partendo da quello che è il discorso stadio che sicuramente riguarda lo sport, abbiamo sicuramente la necessità di dover intervenire per andare al completamento e andare a creare una struttura dignitosa per Fano, per quello che riguarda sia il discorso della gradinata ma sia soprattutto anche degli spogliatoi e delle strutture che sono a servizio della società sportiva, ma poi abbiamo nello sport tantissimi altri temi da poter, da poter, da dover realizzare come quello diciamo quello che viene definito il nuovo palazzetto dello sport che deve diventare un centro polivalente a servizio di tanti sport che ci sono a Fano che al momento non hanno la struttura adeguata per poter giocare anche nelle categorie professionistiche in cui sono impegnati e c'è un discorso di sistemazione, abbiamo aperto una nuova piscina, è stata aperta una nuova piscina grazie alla fondazione Cassa di Risparmio di Fano, adesso abbiamo la vecchia piscina che è una scatola chiusa e qualcosa bisognerà pur farci e lì potrebbe essere realizzato un centro che possa servire, una palestra, vedremo quale sarà più opportuno una volta valutato insieme alle associazioni e ai tecnici cosa sia opportuno fare, più opportuno fare. C'è una grande carenza di infrastrutture sportive che possono essere una volta realizzate il volano anche per quello che è il turismo e volevo anche aggiungere che dal punto di vista delle infrastrutture della viabilità c'è un'esigenza grossa anche dal punto di vista di quello che sono il ripristino dei manti stradali, ci sono delle strade che sono veramente in condizioni vergognose e i cittadini ogni volta che escono di casa devono farsi il segno della croce per dirsi che si è andato tutto bene, quindi questa situazione sicuramente non può andare bene. Si parla di una Fano più bella e quindi occupandoci di decoro urbano le chiedo qual è la sua visione futura della città. Il decoro urbano è un altro aspetto su cui bisogna assolutamente intervenire perché abbiamo un centro storico che a partire dalle fioriere, per dirne una cosa semplice, a quello che è il discorso del selciato si trova veramente in condizioni imbarazzanti. Abbiamo avuto, sempre in tema di programmazione e condivisione, che deve essere secondo me il live motive della prossima amministrazione, abbiamo avuto degli interventi che hanno riguardato un paio di piazze, di piazzette, io le ho definite in qualche comunicato delle corti condominali che hanno reso sicuramente più belli quei luoghi, ma sono dei luoghi che alla fine non sono al servizio della città, ma sono al servizio probabilmente di una parte, di una parte ristretta dalla città. Poi abbiamo il corso cittadino e la piazza con il selciato che se uno ci cammina rischia di inciampare, le signore mi dicono tutte che con i tacchi è impossibile andare a fare una passeggiata per il corso di Fano, ci rinunciano proprio, quindi abbiamo tutta una serie di queste situazioni che sicuramente vanno ripristinate. Poi dopo ci sono temi, i temi più svariati, dalla cura del verde pubblico, dalla cura delle rotatorie e per quello che riguarda anche il discorso del decoro si inserisce anche quello delle strutture nei parchi giochi, diciamo nei parchi di quartiere che sono molto spesso abbandonate e questa amministrazione non ha saputo, noi vogliamo farlo collaborare con i privati anche per arrivare ad avere magari dei parchetti gestiti finanziati, delle strutture finanziate magari anche dal privato che possano ridare un po' dignità e un po' di spazio alle famiglie e ai bambini per poter giocare. Altro tema delicato è quello riguardante la sanità. Sì, la sanità è il cavallo di battaglia su cui il centrodestra ha vinto le elezioni regionali su cui ci stiamo fortemente impegnando capendo anche quelle che sono in questo momento le difficoltà con cui i cittadini si scontrano perché tutti purtroppo tutti quanti abbiamo bisogno ogni tanto dell'ospedale, delle visite mediche e di tutto quello che ci gira attorno. L'impegno è molto forte, in questi giorni viene inaugurata una nuova risonanza magnetica all'ospedale di Fano e ci sono comunque degli investimenti molto importanti che arriveranno come quello della nuova palazzina delle emergenze che servirà sicuramente a gestionare tutto quello che riguarda l'aspetto delle visite diciamo programmate e quindi l'emergenza verrà gestita completamente a parte. E poi non da ultimo c'è l'impegno di questa giunta regionale e dell'amministrazione che è guidata, che sarà guidata speriamo da Luca Serfilippi che è stato consigliere regionale e l'impegno per portare a termine l'ospis pediatrico che sarà una struttura d'eccellenza in tutto il centro Italia per curare purtroppo dei bambini che hanno delle malattie gravissime e porterà anche questo indirettamente una serie di flussi economici perché comunque ci sono tutte le famiglie che vengono a seguito dei bambini, che vengono imparenti, più tutto diciamo quello che riguarda l'aspetto dei medici, degli infermieri che verranno a vivere probabilmente a lavorare a Fano. Quindi si crea tutto un indotto economico a corredo di questa struttura, più diamo comunque la possibilità a tante famiglie marchigiane che ora si devono recare altrove di poter non dover fare questa cosa ma venire qui a Fano. Quindi sulla sanità c'è massima attenzione e continueremo ad averla e io credo che ci sono anche delle idee che verranno messe a terra nel programma per rilanciare il nostro ospedale. State definendo la messa a punto del programma però c'è un aspetto che comunque non è stato dimenticato che è quello dell'inclusione. L'inclusione non solo come concetto astratto. Esatto, esatto Maria Elena, l'inclusione non può essere un concetto astratto, ci sono anche qui delle idee molto forti, molto concrete per andare a sviluppare dei progetti che riguardano alcuni settori della disabilità e anche secondo me ci deve essere un'attenzione che non c'è stata a riguardo a quelle che sono poi tutte le barriere architettoniche che ci troviamo di fronte girando per la città. Parlavo con una persona che mi ha detto io vorrei fare, all'amministratore vorrei fare un giro un giorno intero con una sedia a rotelle per capire quello che significa questo tipo di situazione. Quindi da scivoli che hanno praticamente delle canalette che bloccano la salita, dai gradini che non hanno proprio lo scivolo e quindi tutta una serie di situazioni che si possono risolvere anche molto probabilmente anche con poco. In chiusura di questa nostra chiacchierata un messaggio rivolto ai cittadini. In questi anni mi sono impegnato insieme al mio gruppo consigliare per cercare di portare avanti tante battaglie, alcune delle quali abbiamo anche vinto come ad esempio la difesa dell'azienda dei servizi, la difesa di Aset. Io credo che possiamo fare molto di più e sono convinto di poterci riuscire. Il mio impegno da papà, da professionista e da sportivo e da amante dello sport sarà quello di concretizzare alcuni degli obiettivi che ci daremo con il programma e penso di poter essere una persona che ci mette sempre la faccia e che porta avanti quello che dice. Grazie allora Alessandro Brandoni per essere stato con noi, grazie a Roberto Magrelli in regia e a tutti voi per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie a tutti.